Mario Barbiero alla vigilia delle semifinali, le tue sensazioni? Sì, questa è un'altra Germania, una squadra che ha cambiato molto, soprattutto nel palleggio, nel ruolo di opposto, ha dei giocatori molto validi, li stiamo studiando un po' di più con attenzione perché sono giocatori nuovi che non avevamo mai visto, per cui sicuramente sarà una partita molto dura. Per te quanta emozione c'è tornare in una semifinale dopo dieci anni? L'emozione deve essere messa da parte perché credo che in questo momento l'obiettivo sia concentrarsi sul gruppo, sulla squadra, cercare di far giocare questi ragazzi al meglio perché se lo meritano.